Degrado a Napoli, crolla il cornicione di un palazzo del 600 a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi. L'inviata Felicità Pistilli. Un dedalo di vicoli che a ogni passo svelano palazzi bellissimi ma purtroppo malandati. A San Gregorio Armeno, la strada dei pastori, ci sono le transenne. Si è sgretolato il cornicione di questo edificio secentesco. Un crollo che vi avevamo già annunciato un anno fa, quando il centro storico di Napoli rischiava di perdere il patorcinio dell'UNESCO. Ecco la testimonianza che avevamo raccolto. Professore, questi ponteggi cosa sono? Guardi, sono da decenni. Questo è l'emblema del degrado di Napoli. Si aspetta il morto. Siamo a rischio crollo. Lungo i decumani è sorprendente l'infilata di impalcature vecchie e arrugginite. Molte stanno qui dal terremoto dell'80. Ci raccontano le imprese. Hanno avuto accesso ai fondi per la ricostruzione senza mai iniziare i lavori. Certamente un 35%, un terzo del centro storico, è in condizioni disperate. Palazzo Penne è un capolavoro del 400, un tentativo di restauro c'è stato, ma ora i comitati dei cittadini lo portano a esempio del degrado della città. C'è un problema di infiltrazione d'acqua che si sta letteralmente gonfiando la parete e rischia di crollare. Quasi tutti gli edifici storici del centro sono privati. Solo il 40% stima la sovrintendenza in condizioni accettabili. Molti sono a rischio, molti anche di una certa rilevanza, per esempio quelli nel rione Sanità, i palazzi barocchi sanfeliciani. Come questo, divorato dall'incuria e dagli abusi.